Conte Pinoli, suoi tre alberghi a Pesaro, tra quelli rimasti aperti in questa città, lei si è invertato una formula per attirare i pesaresi nei suoi alberghi. Venite in vacanza a Pesaro, di che cosa si tratta? Si tratta di cercare di non chiudere gli alberghi, sia questi tre di Pesaro sia i tre di Urbino, perché purtroppo il lavoro è calato moltissimo, come tutti sanno, tant'è vero che a Pesaro gli alberghi li hanno chiusi tutti, in Italia credo abbiano chiuso nove alberghi su dieci, a Pesaro siamo pochissimi, cinque o sei, tra cui tre sono i miei. Non voglio chiudere, anche se ovviamente non guadagno, anche se devo far pari, pur di non chiudere, perché non voglio licenziare i miei collaboratori, io ho collaboratori anche da 30, 40 anni, anche da 40 anni, tanti, e quindi non voglio licenziare, poi tra collaboratori è l'indotto, perché ci sono i fornitori, ci sono i manutenitori, insomma, sono 200 famiglie che io sento, più di 200 famiglie che io sento, sulle mie spalle, insomma, la mia responsabilità me la sento. Quindi ho cercato sempre di fare di tutto per non chiudere, mi sono inventato varie cose, insomma, anche i menù su misura, con le ricette dei clienti, adesso con questa cosa che da molte regioni non possono venire i nostri clienti abituali, molte aziende di Pesaro o dell'antroterra o sono chiuso, lavorano poco, quindi non vengono i rappresentanti che venivano prima, quindi il commerciale è molto ridotto, pochissimi clienti vengono per il lavoro, ovviamente per la stagione estiva è finita, per il mare non vengono, e per il turismo è tutto chiuso, musei, cose, quindi non vengono neanche quelli, allora l'unico modo per non chiudere ho pensato sia di puntare sui pesaresi, quali non potendo andare al ristorante, e penso che per mesi ancora continuerà questa storia, perché io temo, spero di sbagliarmi, ma penso che fino a quando non viene il caldo difficilmente cambieranno le cose, non stanno inventando le medicine, scoprendo le medicine, o anche se le troveranno, non troveranno prima di aprile e maggio, e anche i vaccini, quindi è una cosa a lungo andare, a lungo termine, per cui penso che poi la gente a stare in casa, o magari uscire e prendere una pizza e portarsi alla casa, poi alla fine si stanchi e abbia la voglia di uscire. Allora ho pensato di creare in questi miei alberghi delle isole di assoluta sicurezza, questa è la cosa che ci tengo di più, da noi c'è proprio l'assoluto obbligo di tenere le mascherine, di tenere le distanze, di lavare le mani, abbiamo la sanificazione in tutti gli alberghi, ovunque, nei bagni, nei spazi comuni, i tavoli sono distanziati di due metri, sono o da due o da quattro, non più di quattro, anche se sono più persone che sono in otto, devono stare in due tavoli, o se sono in sei devono stare tre in un tavolo, tre in un altro, quattro e due, ma non li faccio a mettere insieme, perché la cosa più importante è la sicurezza e la salute, quindi ci tengo a questo qui. Sì, ho fatto questo. Quindi qual è la proposta nello specifico? L'inviterà a cena e poi la notte è quasi gratis, così ha dichiarato sui social? Sì, praticamente non voglio guadagnare, quindi voglio far pari, faranno un'analisi dei costi in modo da non rimettere almeno, ma viene a costare poco più di una cena in un buon ristorante, ovviamente un albergo di quattro stelle con uno chef bravissimo, quindi non è che sia il prezzo di una pizza, però insomma al prezzo di un ristorante qualsiasi con poco più do anche la camera in modo che uno può dormire qui, fa una vacanza. E ho detto proprio la vacanza pesa, visto che fuori non si può andare dal comune, non si può uscire dal comune. Uno viene qui, oltre che mangiare e dormire, abbiamo una palestra dove su prenotazione, anche lì per non incontrarsi, vanno o due o al massimo quattro, ma dalla stessa famiglia, e ci sono tutte le attrezze della palestra. Oppure abbiamo la fortuna di avere la spiaggia proprio attaccata all'albergo e uno può fare una passeggiata fino al posto sei ore, perché dopo cambia comune, però fino al posto sei ore può andare a piedi lungo la spiaggia. Oppure può andare in bicicletta nella ciclabile, che è sempre attaccata all'albergo e che arriva sempre fino a Fano, quindi fino a forse sei ore si può andare. E poi sto promuovendo una serie di iniziative all'interno dei miei alberghi, dove si può giocare a Burraco, a Tresette, a Scupone Scientifico, a Scacchia, a Dama, insomma tutte quelle cose sociali che si possono stare o in due o in quattro, non di più. E poi anche altre iniziative sto promuovendo con altri ristoratori, ad esempio dei corsi da barman, e siccome spero di avere molto lavoro, perché io sono un ottimista, mi auguro che non posso assolutamente assumere altro personale, sto lavorando per cercare di tenere quello che ho e non mandarli via, ma se c'è molto lavoro, invece di assumere, prendo le cose dagli altri ristoranti. Prendo gli ordini qui da quelli che dormono qui e ci facciamo portare le cose, così lo lavoro anche agli altri ristoranti, perché mi sembra ingiusto che non lavori. Insomma, molti hanno fatto i sacrifici per tenere aperto, per fare tutte queste sanificazioni quando erano necessarie, poi li hanno fatti chiudere, prima fino alle 6, poi addirittura anche dopo alle 6, e questi come vivono, insomma. Io mi metto sempre nei panni degli altri, quindi spero di riuscire a dare una mano anche ai quei ristoratori che vorranno collaborare con me e con queste mie iniziative per cercare di viziare i pesaresi a peso, senza che vadano a fare le sue sceglie. C'è già qualche pesarese che dopo il suo annuncio l'ha contattata? Sì, per ora mi hanno telefonato per chiedere, una coppia ha prenotato anche, ancora non sono arrivati perché l'idea è stata dall'altro ieri, l'ho messa su Facebook. Però, insomma, l'interesse già c'è stato, hanno già telefonato, hanno chiesti i prezzi, i prezzi logicamente variano, perché poi dipende da quante persone sono, se ho un camere singolo, due letti o tre letti, poi ci sono varie tipologie di camere, di menù, quindi, insomma, è tutto su misura qui. Però, ecco, cerco di anche riempire, per chi vuol restare, la giornata, magari chi vuol stare due o tre giorni, dal venerdì al sabato, alla domenica, anche con i momenti liberi, farò su richiesta corsi anche da arte, farò vedere le varie opere che abbiamo qui all'interno dell'albergo, farò delle conferenze sull'arte contemporanea, insomma, tutto quello che può riettare un cliente che non può uscire dal comune di Pesaro. Grazie. 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 Grazie.